La Lombardia sceglie il connubio pubblico privato per offrire una sanità efficiente ai cittadini, in Molise invece ancora le prese con la territorialità dei servizi. A dire no questa volta alla soppressione della provincia pentra i cittadini, in piazza con loro anche la classe politica insieme alla cancellazione della prefettura e Sernia rischia di perdere la propria identità istituzionale. La splendida riserva naturale di Monte di Mezzo nella prestigiosa cornice dell'Expo ha ricevuto la pergamena che certifica la sua presenza nella rete mondiale dell'UNESCO. Dopo la sconfitta con il Chieti i ragazzi di Mister Cappellacci si dicono pronti ad affrontare la nuova sfida contro il San Nicolo a Teramo, clima teso anche per le squadre pentre che si sfideranno nella sesta giornata di campionato in Casa Granata. Ben trovati con l'informazione di Molise TV, in apertura come abbiamo sentito anche dai nostri titoli, torniamo ad occuparci di sanità. Questa volta abbiamo sentito il direttore sanitario del Cardarelli Luigi I. Di Marzio e il presidente del Consiglio regionale Lombardo, il servizio di Carla Ferrante. Desiderare non è ottenere, in sanità il binomio domanda-offerta non è direttamente proporzionale, alla domanda non corrisponde sempre identica offerta. Finito il tempo delle vacche grasse bisogna comprendere che il superfluo non corrisponde più al necessario. Con risorse infinite si potrebbero soddisfare bisogni infiniti come sono quelli oggettivi della comunità, ma siccome le risorse sono limitate è necessario che ci si renda conto che non tutto ciò che si desidera può essere ottenuto. Non è avere l'ospedale sotto casa che ci restituisce una sanità efficiente, ma tutt'altro il troppo, come dire, storpia sempre. Non credo che sia un problema di rivendicare trattamenti privilegiati, credo che sia un problema di informazione all'utenza, di trasmettere la consapevolezza che non solo non è ragionevole, ma non è neanche utile ottenere servizi prossimi al proprio domicilio che necessariamente non potrebbero garantire una qualità adeguata. È molto meglio comprendere che un piccolo sacrificio comporta il vantaggio di avere una maggior esperienza, una maggior casistica e quindi una maggior competenza che va a vantaggio di tutti quanti, della sostenibilità del sistema e anche della sua qualità. Tra le regioni italiane virtuose in materia sanitaria c'è la Lombardia, che ha individuato la ricetta salvavita e il simposio vincente e pubblico insieme al privato. La ricetta è la riforma che abbiamo avviato ormai quasi vent'anni fa e che ha messo sullo stesso piano pubblico e privato, favorendo una competizione sana tra due sistemi diversi, che però ha portato verso l'alto la qualità di tutta la sanità in Lombardia e ha permesso così di migliorare le efficienze e di abbassare i costi. L'altro aspetto è stata un'attenzione estreno ai costi governati dalla regione, in collaborazione con le dirigenze apicali delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie, ma con un controllo della regione molto attento anche dal punto di vista dei dati e delle informazioni. Il sistema Lombardo, essendo costruito sul rapporto tra domande e offerta da posizioni quasi competitive, ha reso disponibili moltissimi dati che hanno aiutato a tenere sotto controllo il sistema. Quindi non è difficile farlo, la Lombardia lo ha fatto in questi anni, possono farlo anche le altre regioni. In seguito allo sciopero organizzato dai lavoratori e dalle lavoratrici della 3GSPA, a sostegno dell'avvertenza che riguarda il futuro degli operatori della sede del capoluogo molisano, il presidente della regione molise, Paolo Di Laura Frattura, ha incontrato gli operatori e ha ascoltato lo stato dell'avvertenza, impegnandosi a incontrare il presidente della regione Abruzzo e i vertici dell'azienda, per provare a trovare soluzioni non traumatiche. Il governatore Frattura si è anche reso disponibile a attivare i meccanismi istituzionali necessari alla felice conclusione del tavolo nazionale per il settore dei call center. E ci spostiamo adesso in basso Molise, dove c'è stata una vasta operazione delle fiamme gialle. A finire nei guai il titolare di un edificio di Montenero di Bisaccia, che confeziona jeans per griffe internazionali. I dettagli nel servizio. Maxi Blitz delle fiamme gialle di Termoli in un opificio a Montenero di Bisaccia, a finire nella rete della giustizia, è il titolare dell'azienda. Tra i 50 lavoratori in servizio nell'opificio di 300 metri quadri, 20 sono risultati in nero. L'azienda Basso Molisana produce jeans per noti marchi internazionali. L'ampia indagine è incentrata sugli operai e su imposte, evidenziato per ora reati di evasione fiscale e contestazioni in materia tributaria. Tra le operaie in nero anche una ex porno star di Bucharest. La presenza di lavoratrici in nero è ora al vaglio degli inquirenti che dovranno approfondire una serie di circostanze. Il titolare giustifica la loro presenza come in prova. L'indagine condotta dal comandante Giuseppe Cristofaro, iniziata qualche tempo fa, è stata incentrata su tutto il tessuto imprenditoriale molisano. Intanto si torna a parlare di lavoro sommerso. Il lavoro nero, purtroppo anche in Molise, è una prassi molto diffusa. Scendono di nuovo in piazza i commercianti di Piazza Pepe a Campobasso. Si potrebbe chiudere d'estate e aprire in inverno. Questa è la loro proposta. Sentiamoli. Serrande chiusa e licenziamenti. E questo è il triste risultato della chiusura di Piazza Pepe a Campobasso e i negozianti in piazza. Purtroppo l'amministrazione ha deliberato che rimarrà chiusa ai cittadini. Noi come operatori commerciali diciamo che la possono anche tenere chiusa la piazza, però la devono riqualificare. Ci siamo sentiti presi in giro dal sindaco perché ci ha convocato per ben quattro volte per raggiungere un accordo. Noi avevamo fatto una proposta, almeno secondo noi, molto seria. Cioè era il fatto dell'apertura invernale, nei mesi invernali freddi, anche perché a Campobasso questa piazza specialmente viene chiamata piazza polmonita addirittura. e quindi i mesi invernali chiusa e i mesi estivi aperte, cioè aperte, i mesi estivi chiusa in modo tale che la gente, i cittadini, potevano passeggiare. Mi scusi, lei dice allora trovare il punto di equilibrio, aprire nel periodo invernale e chiuderlo invece nei periodi estivi, quindi sembra anche un'offerta molto ragionevole. Infatti lui era disponibile a una cosa del genere, dopodiché hanno così capoticamente fatto questa delibera di chiusura. e quindi noi oggi come oggi non possiamo che purtroppo accettare questa situazione anche se non ci sta bene. Ci siamo sentiti veramente presi in giro e questo non va bene sia a livello personale che a livello come preparatori economici. Ci spostiamo adesso a Isernia dove si è svolta una manifestazione per scongiurare la chiusura delle principali istituzioni della città Pentra, decisione che comporterebbe anche la soppressione del comando dei vigili del fuoco e della questura. Sentiamo i dettagli nel servizio. Una manifestazione organizzata per dire no alla chiusura delle principali istituzioni nella provincia di Isernia, una battaglia che riguarda l'intero territorio e che mette a rischio la regione. Io dico no, questo è chiaro perché mi opporrò con tutte le mie forze, non so gli altri, qui ognuno si assume le sue responsabilità. Deve essere un'opposizione vera e credo che su questo sarebbe clamorosamente sbagliato dividersi, dividersi tra destra e sinistra e dividersi ancora di più all'interno delle forze di sinistra. Una vera e propria guerra di sopravvivenza dunque che è il fine di riarticolare gli uffici dello Stato sul territorio molisano affinché la qualità della vita delle persone non cambi. La regione deve essere difesa innanzitutto dal suo presidente, poi naturalmente occorre una forte mobilitazione popolare per far comprendere che questo argomento, cioè la destrutturazione di una intera provincia, lede gli interessi dell'intera regione. Un tavolo istituzionale è ciò che è stato proposto dall'ex consigliere regionale Di Sandro. La regione molise, il governo regionale, deve portare in conferenza Stato-Regioni un documento per la tutela e la salvaguardia del proprio territorio. Nel contempo la nostra delegazione parlamentare, unite e compatte, deve instaurare, deve aprire un tavolo di concertazione con il governo Renzi difendendo il nostro territorio e chiedendo assolutamente due o tre soluzioni che riguardano la tutela e la salvaguardia della nostra regione, il lavoro e quindi dei provvedimenti straordinari per il lavoro ai giovani e poi la tutela anche di queste istituzioni, soprattutto della provincia di Sernia. Nonostante le belle proposte di Unione, non sono mancate le proteste dei cittadini. Questa volta sono stati loro a mobilitarsi per bloccare il taglio della prefettura che comporterebbe la conseguente soppressione del comando dei vigili del fuoco e della questura. Allora, io lancio un'iniziativa popolare, cioè la mia azione parte dal basso con la gente. Oggi voglio vedere questi rappresentanti che cosa avranno da dire, quale coraggio e se ce l'hanno questo coraggio di venire di dire. Altrimenti, la lotta per questo territorio vuol dire che la faremo noi cittadini e lo dico anche ai cittadini. Se siete cittadini collegati alle masse politiche e ve ne state a casa, io lo capisco bene. Se invece non siete legati a questo apparato, venite a protestare perché questo territorio lo pagheremo noi. Chi ha fatto il portafoglio grosso in questi anni sta bene e certamente non avrà di questi problemi. Da ieri, 40 dipendenti della Ex-ITR hanno iniziato a prestare la loro opera per fabbriche riunite, il nuovo laboratorio tessile di proprietà della IKF, la holding milanese che ha acquisito l'officina tessile italiana. Dunque, 40 dipendenti Ex-ITR che sono tornati a lavorare nello stabile di Pettoranello possono tirare un sospiro di sollievo. Spetterà loro rilanciare uno degli assi portanti dell'economia locale che negli anni passati aveva portato la regione ai fasti della moda internazionale. Man mano che entreranno licenze di portafoglio, inoltre si prevede che la IKF necessiti di nuovi reintegri. La fase di rodaggio, insomma, è ufficialmente iniziata. Secondo il rapporto SWIMETS 2015, il Molise è la regione che ha accusato maggiormente gli effetti della crisi. A questa vera e propria emergenza ancora in corso, cercano di dare risposta a 10 associazioni molisane riunite oggi a Termoli. Sentiamo. Il rapporto SWIMETS 2015 ci mette in guardia sul rischio concreto che il Sud sia condannato a non uscire più dalla crisi, destinato ad un sottosviluppo permanente. Non fa eccezione il nostro Molise. Seppure alla fine degli anni 90 la regione si stesse affrancando da un Sud in ritardo di sviluppo, negli ultimi 10 anni ha subito una regressione. In particolare, se osserviamo i dati sulla variazione del PIL tra il 2001 e il 2014, non è difficile notare come il Molise sia la regione che è più tornata indietro, a passo di gambero. Soprattutto se si restringe lo sguardo al periodo della famigerata crisi economica. A partire dal 2008, infatti, il PIL della nostra regione è sceso più di qualunque altra regione del Sud, registrando un pesante meno 22,8%. Va da sé che anche il prodotto interno lordo pro capite, la ricchezza per abitante, è tra i più bassi, secondo solo a quello di Campani e Pugliesi. Dopo la diffusione delle anticipazioni del rapporto Svimez, una serie di associazioni molisane si sono iniziate ad interrogare su come porvi rimedio. Dai contatti tra di loro e con i sindacati sono emersi altri dati. Dal 2007 ad oggi abbiamo bruciato un 16% di PIL, destinando il 24% della popolazione, un molisano su quattro, in una fascia sociale di cosiddetta povertà relativa. La disoccupazione è salita al 19%, mentre un buon 15% del PIL regionale è rappresentato dal lavoro sommerso. Il nostro export, salvo miracoli all'Expo, è sceso ancora del 3%. Di fronte a una situazione così drammatica, con le infrastrutture carenti e il tessuto produttivo che non accenna a ripartire, le associazioni locali hanno così deciso di incontrarsi con le parti sociali, i sindacati e, se lo vorranno, con gli amministratori, per iniziare a lavorare seriamente a delle proposte di soluzione di numerosi datavici problemi. Oggi a Termoli ne stanno discutendo tra gli altri La Fonte, Libertà e Giustizia, Libera, La Rinoviva, Legambiente, Fondazione Milani, Eccetera, Cultura e Società, Forum della Sinistra Giovanile Molisana, Arca Sannita e Molise 2020, oltre a rappresentanti di spicco dei sindacati e ad altre associazioni che hanno aderito successivamente all'invito. E vi portiamo ora in Alto Molise, in particolare nella splendida riserva naturale di Monte di Mezzo, che nella prestigiosa cornice dell'Esposizione Internazionale di Milano 2015, il 20 giugno scorso, ha ricevuto la pergamena che certifica la sua appartenenza alla rete mondiale delle riserve della biosfera Unisco. Vediamo il servizio di Samantha Ciarla. Un luogo dalla natura incontaminata e dall'indiscutibile bellezza alla riserva Mab Colle Meluccio Monte di Mezzo Alto Molise è ufficialmente entrata nella rete mondiale delle riserve della biosfera Unesco, ottenuta grazie al suo elevato valore naturalistico e culturale, che la rende area promotrice del rapporto sostenibile tra uomo e biosfera. Il progetto è già stato realizzato e è stato già approvato dall'Unesco, quindi attualmente questa è l'unica riserva della biosfera all'interno del programma Men in Biosphere, cioè uomo e biosfera dell'Unesco, e sarà approvato al giugno 2014, quindi un anno circa, un anno fa, e quindi con grande soddisfazione da parte sia dei sette comuni che hanno messo a disposizione gli interi territori, che vanno da San Pietro Avellana fino a Pesco Lanciano, Rocca Sicura, Pietro Abbondante, e vari altri, in cui chiaramente c'è un discorso molto importante di sviluppo sostenibile, di conservazione delle risorse naturali, della diversità, di servizi ecosistemici, e soprattutto di sviluppo locale e di educazione ambientale. In questa sede in particolare, e chiaramente qui ci siamo proprio in uno dei posti forse migliori per quanto riguarda l'educazione ambientale, perché visitato, le ultime statistiche parlavano di circa 12-15 mila persone l'anno, quindi sono persone che entrano nel museo, che in ogni caso visitano le voliere o i recinti faunistici, o che entrano nel bosco, quindi sono sicuramente alcune che sfuggono addirittura al controllo, che non firmano, e possono superare anche i 20 mila visitatori annuali. E sono numeri importanti per il Molise, importantissimi per la gestione di queste riserve, intese come una gestione di luogo dimostrativo, di ricerca, di educazione ambientale, quindi veramente è importante. Un luogo di attrazione per tutti gli amanti della natura, che richiama ogni anno turisti e scolareschi a scopi didattici. Diverse le iniziative pianificate all'interno della riserva, domani, domenica 4 ottobre, si terrà la terza edizione di Foresta Amica, evento organizzato dall'Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Sernia del Corpo Forestale dello Stato. E dopo la segnalazione del ritrovamento di una carcassa di cervo nelle acque del Biferno, a cui peraltro sono stati amputati i palchi, siamo andati a vedere. Ci troviamo oggi qui alla centrale idroelettrica del comune di Oratino, perché c'è stata segnalata una carcassa di un cervo lì nel canale dove scorre l'acqua. Probabilmente un bracconiere all'incirca una settimana fa ha sparato all'animale che poi è andato a morire gettandosi così nelle acque del Biferno. A segnalarci anche un altro episodio, quello probabilmente di un altro avventore che ha privato l'animale dei palchi forse per venderli qualche appassionato. La segnalazione della carcassa è stata già presentata al Corpo Forestale dello Stato dalle guardie ambientali della AEOP che hanno comunque rimbalzato la questione al comune di Oratino, perché lo abbiamo detto poc'anzi, il territorio è di pertinenza di Oratino. Che cosa è successo però? Questa carcassa è stata segnalata sabato scorso appunto al Corpo Forestale dello Stato e solo che essendo di sabato non è stato possibile contattare immediatamente il comune di Oratino. Dopo una settimana dalla segnalazione risulta ancora essere qui quest'animale che nessuno ha provveduto ancora a rimuovere. È un animale che si trova lungo il corso dell'acqua quindi sarebbe opportuno forse provvedere il prima possibile non so le responsabilità da chi debbono essere poi addossate. Questo è un animale che poi è stato ulteriormente sacrificato perché gli sono stati tolti anche i palchi e quindi già questo è un ulteriore gesto di scemmio nei confronti di un animale che in questa diciamo che non potrebbe essere sparato quindi chiediamo a grossa voce che quest'animale venga quando meno rimosso nel giro di poco tempo perché comunque sia è inopportuno anche che quest'animale stia nel corso dell'argine del fiume. Ma voi come organizzazione non potreste magari voi presentare al comune di Orattino quanto è successo l'accaduto? Certo noi infatti nella giornata di sabato scorso quando abbiamo contattato il corpo forestale abbiamo cercato di contattare anche il comune il corpo forestale sono stato proprio io a fare questa segnalazione sabato scorso e l'utente mi aveva assicurato che nella giornata di lunedì avrebbe provveduto a segnalare il tutto al comune non so adesso quali siano stati poi i motivi per il quale troviamo ancora questa situazione a distanza di una settimana Cambiamo argomento e parliamo del centro di salute mentale di Campobasso in particolare della visita pastorale di Monsignor Giancarlo Bregantini che ha regalato un messaggio di speranza e incoraggiamento a chi ha bisogno di cure e al personale della struttura vediamo Una parola di conforto un pensiero un sorriso a chi è meno fortunato più debole spesso schiacciato dalla società questo è il fine della visita pastorale di Monsignor Giancarlo Bregantini al centro di salute mentale di Campobasso un modo per far conoscere la grande famiglia del centro ai cittadini e alla società che molto spesso nonostante i tempi tendono a emarginare colui che è diverso etichettandolo con l'appellativo di pericoloso Interessante una battuta che abbiamo fatto in questa stanza non si fanno massaggi riabilitativi ma messaggi riabilitativi qui si cura con la parola molto bella questa immagine cioè con la relazione ecco questa mi sembra un po' l'immagine chiave di questo luogo che è veramente un luogo benedetto l'orcivescovo della diocesi Campobasso Boiano è stato accolto dagli operatori del centro con orgoglio e soddisfazione molto importante per noi operatori che abbiamo bisogno di parole di conforto questo lavoro che è molto delicato che si svolge con una comunità intera per cui abbiamo un punto in comune col vescovo che è quello di un messaggio di speranza perché la speranza oggi scientificamente viene ritenuta il fattore principale di buon esito dei disturbi gravi documenti originali preziosi gioielli femminili costumi tradizionali e corredo matrimoniale tutto questo nella mostra titolata le carte raccontano il costume di Campobasso dal 1500 al suo disuso che si è conclusa con un boom di presenze circa 2500 il collega Gennaro Ventresca ha intervistato per noi uno degli organizzatori sentiamo da una molecola è venuta fuori una grossissima soddisfazione per ciò che siete riusciti a fare Franco Baranello presidente dell'associazione arte e tradizione di Fontana Vecchia come siete riusciti a mettere insieme più di 2500 visitatori in una settimana? questo era proprio uno degli scopi che ci eravamo prefissati circa un anno fa noi Premetto siamo un'associazione culturale che si occupa in senso lato della cultura popolare di Campobasso non siamo un gruppo folcloristico ci occupiamo di tutto ci occupiamo dei canti delle tradizioni soprattutto ci occupiamo dei costumi quindi è un anno che stavamo studiando questo evento e lo abbiamo realizzato proprio grazie all'unione che abbiamo tra di noi c'è da dire che tra di noi ci sono anche persone esperte sul costume molisano e quindi dopo aver fatto tantissime ricerche anche negli archivi di Stato abbiamo intervistato persone anziane e quindi siamo riusciti a ottenere questo risultato speriamo di poterla riproporre questa mostra perché veramente interessa volevo solo aggiungere una cosa abbiamo avuto anche la visita della dottoressa Gandolfi della regione Abruzzo che è una delle massime esperte del costume tradizionale italiano quindi per noi è stato un grande un grande vando avete lavorato in equip perché vedo che in tanti vi siete così uniti per realizzare questa mostra che lo ripeto è stata di grandissimo rilievo di grandissimo successo e soprattutto di grandissimo spessore culturale e ci piace anche che sia venuto a galla Franco Baranello di cui si parla questo straordinario artista artigiano artigiano artista che così il pubblico campobassano e molisano ha potuto conoscere meglio beh la mia attività lei sa che io mi occupo di artigianato artistico puntato proprio sulle tradizioni campobassane quindi quando vado a realizzare una mia figura presepiale ad esempio un costume tradizionale prima di questa realizzazione c'è lo studio del costume per cui sono 50 anni che faccio questo perché ero proprio bambino e quindi questa è stata diciamo la meta che mi prefissavo e allora noi adesso possiamo chiudere dicendo che la mostra chiude questo evento chiude in maniera festante in maniera scoppiettante con canti popolari e in modo particolare con canti molisani grazie a un concertino che ha voluto dare il suo contributo dopo una prima tappa a Termoli approderà anche nel capoluogo l'iniziativa Sommelier per un giorno un'esperienza alla ricerca di odori e sapori che per alcuni potrebbe aprire le porte ad una nuova vita professionale sentiamo tra odori sapori e suggestioni oltre 100 curiosi hanno partecipato alla prima tappa di Sommelier in un giorno lanciata a Termoli nei giorni scorsi dall'associazione della Sommelier professionale italiana l'iniziativa sarà replicata a Campobasso domenica 11 prima dell'inizio ufficiale dei corsi di formazione Aspi prevista per metà ottobre secondo un copione ben collaudato per approcciarsi all'arte della sommelieria occorre innanzitutto conoscere i doveri del ristoratore nel servire al meglio una bottiglia di vino ha spiegato il docente Rudy Rinaldi la seconda parte del percorso formativo diretta dal coordinatore regionale Aspi Celeste Edilizio prevede invece che i partecipanti si approccino alla degustazione cimentandosi nel decifrare aromi e sapori unico neo dopo aver assaporato scientemente dei buoni vini nessuno dei partecipanti ordinerà più vino della casa abbiamo ascoltato le impressioni a caldo degli aspiranti sommelier ho capito che da un semplice bicchiere di vino un semplice bicchiere di vino nasconde un universo infinito sostanzialmente secondo me un poeta poi venire qua a questo corso con due docenti estremamente preparati e qualificati con la passione che poi ci ha messo la signora è stato qualcosa di unico veramente stupendo anche proprio il sentire i profumi tutti quei sentori fruttati che comportano comunque un bicchiere di vino siamo venuti qui per avere un'opportunità di conoscere qualche cosa di nuovo riguardo al vino essendo io anche astemi a provare nuove emozioni nuove sensazioni con il vino e ovviamente la voglia di proseguire il corso e assaggiare un vino buono da oggi in poi comunque berro vino in un modo diverso apriamo la nostra pagina sportiva con la serie D dopo la sconfitta con il Chieti i ragazzi di mister Cappellacci si dicono pronti ad affrontare il San Nicolò a Teramo clima atteso anche per le squadre Pentre che si sfideranno nella sesta giornata di campionato in casa Granata sentiamo Conto alla rovescia per le squadre molisane coinvolte nel campionato di serie D molte le sensazioni della squadra rosso-blu a poche ore dal fischio d'inizio della sesta partita di campionato una gara molto importante per il campo basso archiviata infatti la schiacciante sconfitta con il Chieti mister Cappellacci parte alla rimonta e dopo un duro allenamento settimanale i suoi ragazzi si dicono pronti ad affrontare il San Nicolò a Teramo nella sesta di campionato che sarà disputata domani pomeriggia migliorate le condizioni dell'infortunato Dimas che probabilmente tornerà in campo a mister Cappellacci ad assottocchere a puntare sui suoi nuovi pupilli il difensore Andrea Carminucci e il centrocampista Nicola Fiore animi bollenti anche in alto Molise alla vigilia del derby tra Olimpia Nionese e Isernia il tecnico di Granata Paolucci ha studiato i filmati dei pentri abbiamo due soluzioni per fermarli a replicare sull'altro versante Panico che dichiara il nostro sarà un gioco di precisione tanta l'attesa dunque per il derby delle squadre Pentre una gara competitiva e scoppiettante che si svolgerà domani in casa Granata Continuiamo con il calcio di serie D e vediamo insieme la schermata dei prossimi turni delle giornate di campionato del Girone F San Benedettese Monticelli San Nicolò Campobasso Re Canatese Matelica Iesina Vispesaro Olimpia Nionese Isernia Folgore Veregra Giulianova Miternina Alma Juventus Fano Chieti Castelfidardo Avezzano Fermana Ancora serie D e parliamo in particolare della schiacciante vittoria del Matelica sulla Iesina durante la quinta giornata di campionato Sentiamo la telecronaca della partita e il commento dei mister Bello e bravo il Matelica nel soprannominato derby del verdicchio contro la Iesina che riesce a far suo per 3 a 1 riscattandosi dalla sconfitta della scorsa settimana Ci prova da calcio d'angolo la Iesina al quindicesimo ma nobile in uscita ci arriva con la mano e spazza Sulla ribattuta c'è Carnevali ma la sua conclusione termina alta Al trentaduesimo quindi la partita si sblocca Sullo sviluppo di un calcio d'angolo Boscovic in mischia di testa è il più alto a saltare e infila così l'uno a zero A questo punto cresce il Matelica forte del vantaggio Bella contropiede di Bondi al trentasesimo che fa tutto da solo e serve raso terra pesaresi che non arriva bene sulla sfera e sciupa l'occasione Replica ancora Bondi al quarantacinquesimo ma ancora pesaresi non riesce sul tiro Nella ripresa si riprende appunto allo stesso modo Azione da manuale della Matelica che raddoppia al cinquantesimo Bondi verticalizza per Girolamini che dal fondo serve un cross per pesaresi al centro dell'area che questa volta non sbaglia e segna il 2 a 0 Il Matelica chiude quindi i conti al sessantaduesimo quando Moretti avanza da solo dalla trequarti campo avversaria e in area prova la conclusione colpendo clamorosamente il palo ma sulla ribattuta c'è Picci che ribadisce di piatto in rete il 3 a 0 E ancora Picci che ci prova al sessantanovesimo servito lungo da Moretti scattando sul filo del fuorigioco ma è fermato da Niosi che in uscita lo anticipa e si salva La Iesina prova a reagire e l'entrata di Ragazzo porta forze fresche in avanti Al settantottesimo Boscovic è ammonito per un fallo di mano sul quale l'arbitro concede il rigore agli ospiti Sul dischetto si presenta Trudo che realizza il 3 a 1 mettendo a compimento il più classico dei gol degli ex La Iesina resta in dieci all'ottantaquattresimo per l'espulsione di Calcina per doppia munizione dopo il fallo su Borgese Nei restanti minuti il risultato non cambia il fisco dell'arbitro dopo quattro minuti di recupero decreta il ritorno al successo del Matelica che gioisce nel primo derby casalingo mentre per la Iesina la terza sconfitta consecutiva è un campanello d'allarme per correre ai ripari Sicuramente è un campanello d'allarme perché comunque è il terzo 3 a 0 la terza sconfitta di seguito e per chi purtroppo non viene a vedere la prestazione della squadra è una cosa che è molto grave e poi per quelli che hanno visto la Iesina anche oggi io non ho visto tutta questa grande differenza con il Matelica Vittoria che sicuramente tutti quanti cercavamo volevamo e penso che tutti quanti sono meritati a partire dalla gente che ci ha sempre applaudito nonostante i risultati non fossero sempre felici dalla società che è stata secondo me molto intelligente nel mantenere la calma e grande fiducia in tutti anche in un momento in cui si poteva pensare diversamente e poi penso che i ragazzi sono stati davvero meravigliosi e dalla serie D passiamo al campionato di eccellenza vediamo insieme i turni delle prossime partite che saranno disputate Campobasso 19-19 Termoli Verano Sesto Campano Calcio Dauna Pietra Monte Corvino Gambatesa Castelnuovo Monte Rotaro Roccaravindola Macchia Treppini Matese Rial Montenero Vasto Girardi Alife Venafro Cliternina Continuiamo con la promozione vediamo insieme la relativa schermata dei prossimi turni di gara Baranello Bois Sielsi Petacciato Campodipietra Cerce Maggiore Matese Lupetti Guglionesi Santeliana Rial Prata Ferentania Rial San Martino Castelmauro Rocca Sicura Roseto Torre Magliano Spinete E ad un mese dall'inizio della preparazione estiva quando l'autunno sembra aver preso ormai il sopravvento inizia il campionato di serie B di calcio A5 esordio con il botto dunque tra la Wynn Campobasso e i pentri dell'Isernia c'è molto entusiasmo abbiamo lavorato molto bene ed è nostra intenzione partire con la vittoria per lanciare un chiaro segnale di campionato ha dichiarato Cattaneo e il coach Pentro a poche ore dal fischio d'inizio della partita e con questo è tutto grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV vi lascio al meteo e arrivederci il meteo è offerto da signora dico a lei ha consegni assegni spendi e risparmi di Molise TV corri a fare la spesa spendi e risparmi conviene spendi e risparmi non sono sconti ma veri e propri assegni spendibili con noi la famiglia raddoppia gli acquisti dai un calcio alle rinunce quotidiane spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere previsioni del tempo per domenica 4 ottobre tempo discreto sulle nostre regioni di sud-est ancora interessate da correnti umide dai quadranti occidentali da segnalare stratificazioni nuvolose in transito in Molise nel corso della giornata ma senza piogge temperature senza particolari variazioni nei valori minimi rialzoni massimi ventilazione debole e variabile con mari generalmente poco mossi vediamo le temperature nel dettaglio campo basso minima 14 massima 21 gradi iserne minima 14 massima 23 gradi termoli minima 18 massima 24 gradi il meteo è stato offerto da signora dico a lei a conseglie assegni spendi e risparmi di Molise TV corri a fare la spesa spendi e risparmi conviene spendi e risparmi non sono sconti ma veri e propri assegni spendibili con noi la famiglia raddoppia gli acquisti dai un calcio alle rinunce quotidiane spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere